Ma è calma ragazzi, ci aspetta sempre tra amici, ricordatevelo Allora, no Ferro, sono fortissimo Ce la faccio adesso No, perché mi spavano sempre dietro Allora, scusate ragazzi, un attimo di rabbia Può succedere, può succedere No, calpi, 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 calpi Adesso sclero Prima che inizi questa super flash, 100 livelli, death run Codice, creatore, ferro, asilo, condurre, lega soggetti Sta pure per iniziare la season Ricontrollate di averci ogni due settimane scan Ricontrollata e comunque di averlo inserito Per supportarmi sempre al massimo Grazie mille a tutti, vi lascio alla super death run di flash Ok, allora, Calpis, vieni qua Perché stai guardando un muro nero E sei su delle scale di lane Vabbè, fa nulla, comunque Sai perché ti ho portato qua, Calpis? Sì, perché c'è scritto 100 level flash death run Eh, nulla ragazzi, sta diventando sveglio Comunque, oggi siamo qua per farla death run di flash Con ben 100 livelli Tutti, tutti, ma super Non super e basta, stra-ultra Super mega veloci Quindi, eh, non lo so Non ho letto neanche le regole Bisogna iniziare a correre Corri, corri Ma, no ragazzi Ma che potenza, Calpis Sì, hai vinto Ce ne sono 100 di livelli, eh No, ti son dietro Ma tanto mi hai tolto te tutte le trappe Comunque, siamo già livello 3 Ma dai, no, mia Raga, ma ha spinto giù Ah, perché raga Questa mappa è veramente vecchia E non c'è Non c'è la collisione tolta Quindi c'è per forza la collisione E quindi sempre Non potremmo stare in due Su un pezzo Ok, comunque io ce l'ho fatta e proseguo Anch'io, anch'io Ahia È un po' difficile Però io vorrei Veramente vorrei sfidare qualcuno strabravo Che le fa quasi tutte al primo livello Per me Ah beh, per di sicuro Cioè non è che c'è molto da competere No, beh, aspetta No, no, no Ma non fare gara Vorrei proprio vederlo lui Che li passa Ah Ogni livello No, faccio schifo Però io Calpis Ma fermi Fermi che Ok, ce l'ho fatta Ma sei scarsissimo Oh, senti Calpis C'è un livello Che è impossibile da fare Che però ho fatto adesso Quindi con calma Faccio anche tutti gli altri Ok Allora proseguiamo Proseguiamo La bisogna andare là Ma bisogna Saltare acqua Calpis Eh Calma e sangue freddo Come cavo hai fatto A fare il 5 Ma cosa? Ma sono tutti una cavolata Ferro Cioè non lo so io Non mi salta Ma è flash Allora Fermati Calpi Mi stai facendo agitare Tu continui ad andare avanti E non va bene Poi mi agito E perdo No Calpi sei impossibile Come fai a fare questo livello? È impossissimo Ehm Ragazzi Vi giuro che è infattibile Ma forse Mi sa che te hai qualche problema Cioè non Ok È molto È molto semplice Vedi Stavo facendo veloce solamente per recuperarti Invece ho perso tempo A che livello sei? Eh io sono all'11 Non me lo dovevi Ah no ma io tanto sono all'11 Perfetto Allora Oh Oh Fermo Vai 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 Salto Ok ci ho fatto a mamma mia Aiuto Qua c'è il ghia Ma dai Questo non l'ho mai fatto Neanche mai ghiacciato neanche Ok Buono 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 Ok salto qua Salto No per un pelo Ho preso uno spigoletto Ok adesso sto capendo ragazzi Scusatemi a fare flash Sono un po' Sono un po' Non lo so Non mi esce benissimo flash Calpi Sarei meglio Cioè sarei più bravo a fare un bradico forse Spider-Man Spider-Man sì Spider-Man sarei bravo E anche il mio supereroe preferito E tanto Cod Ah no Cod ferro da stiro Ragazzi ricordate Sotto comunque Tip crouch Ah qua bisogna Non è vero Non bisognava croucharsi Non so perché l'ho fatto E non so perché No no Guarda che poi Cioè perché se crouchi Vai un po' più lento Ed è più facile In realtà no Perché È vero eh No perché scattano le trappole Scusa No non scattano Se non lo sbagli No Ok Ma io sbaglio sempre Regà ma faccio schifo allora Ce l'ho fatta Ma come ce l'hai fatta tu Allora Fermo Ce la faccio pure Ma che cavolo Però non è giusto Fermi tutti allora Questa è la volta buona pure per me Calpis È la volta buona Per ferro Però sì Sì Calpis ce l'ho fatta Livello 13 E ti superò pure E ti superò pure così Sì Però t'ho superato Perché sono arrivato più avanti di te Teni ancora lì Io Vabbè Comunque Per seguiamo Per seguiamo fermi fermi Qua bisogna andare abbastanza piano Molto più piano Cioè qua sembra che stai andando Troppo piano Ma invece devi andare più piano Di quanto vai Beh È un po' un gioco di parole Però fidati che Devi andare molto piano Ma non troppo piano Regà No Non ha senso Calpis Perché oggi faccio così schifo Allora fermi 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 oggi raga Faccio Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta e adesso Le faccio tutte al primo Mamma mia le faccio tutte al primo Veramente Calpis No Mi sono scordato Mi sono dimenticato che bisognerebbe saltare Ogni tanto intanto Perché tu sei fermo Scusami di così Perché ti sto aspettando Cioè Ma dove come lo sei scusa Ma Ma non eri qua Ma che cavolo Ok Ma è strafacile Va bene Facciamo Finita di nulla Io salto tutto e vado E proseguo Io ti aspetta Almeno aspettami tu No Non vedo Calpis E vabbè dai Ma sto pure piccato le trappole Guardalo guardalo ragazzi Tutta persona Non ci credo Ecco Grazie al mio aiuto Ammettilo Ti ferro Ti ferro Ti devi muovere Io non è che posso stare qua mezz'ora Ogni volta ad aspettare Sfrigliamoci Potrei Oh Perché mi si Blocca ferma Ok Ce l'ho fatta Calpis Che livello No Oh Ce l'ho fatta Non ci credo Mamma mia Buono 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 Ok Perfetto Cioè ci sono ancora Calpi quanti cavolo di livelli mancano Io mi sa che ragazzi Arriviamo Io metterei quasi Massimo livello 75 Perché 100 livelli così Come cavolo facciamo a farli tutti Ma è infatti Regà è lunga sta mappa E non sembra Eppure Calpi Io non voglio dire Però questa è una mappa di flash Dovrebbe essere una mappa abbastanza veloce Pochissimo cavoli Io penso di aver tolto il checkpoint Cioè non ho preso il checkpoint Eh ok Sì in realtà tranquillo L'ho fatto e non ho preso il checkpoint Anch'io l'ho preso Oh Ok io lo prendo con calma E ora vado Proseguo Più veloce No la luce Perché ha detto Cioè più veloce della luce Vabbè Comunque Mi sta facendo salire i nervi Anche se in realtà Non so cosa voglia dire Si può dire Mi fa salire i nervi Penso di sì No i nervi non possono salire Cioè mi fa Saltare i nervi Ragazzi si nota Questa è professionalità nei video Dai muoviti Calpis Muoviti Ah se l'hai fatta Per una volta che sei avanti Esatto Io sto Però ti aspetto Dai sono bravo Sei una brava persona E ti aspetto Ok ragazzi Perfetto Finalmente anche il nostro Calpis Ce l'ha Fatta Brutta persona Non ci credo Ma non vale Ok si Vale 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 Ma come hai fatto Cioè tu sei Vabbè lasciamo stare Ragazzi io voglio solamente Fargli uno scherzetto Non c'è Ma io non ho capito Sta cosa Eh beh infatti Tu Tu Oh cavolo Ottima cosa Questa va bene Allora scherzetto Riuscito anche se Oh Mi sono morto Ah è così appunto Non sono morto Ce la facciamo ragazzi Fermi tutti Fermi tutti Guardate qua che salto Perfetto Che salto ultra perfetto Calpis E Boom C'è poi preso Si vola Ci sono 20 pezzi di ghiaccio Salta mi raccomando Dove Eh dove Ci sono Ok Forse non ho preso il checkpoint Fermi No 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 Dimmi che l'ho preso Dimmi che l'ho preso Non l'ho preso No No Ma è difficilissimo Beccare la porta Vero Tu eri pure arrivato alla porta Oh cavolo Sì esatto Io neanche ero arrivato alla porta Ok No Ok ci ho fatta Oh Oh Ma bisogna andare a sinistra Su quello blu Ma ci si può arrivare A saltare fino là Certo Però il problema è arrivare alla porta Ma come Non fai arrivare alla porta Di che porta stai parlando Calpi Scusami Dove Perché devi entrare dentro una porta Vabbè Non ci sarai mai Ma non gira Cioè perché Mi sembra ci sia il ghiaccio Ma non c'è il ghiaccio In realtà Cioè è strana questa cosa Comunque Riproviamoci Adesso è quella volta buona Tu Calpi sei arrivato alla porta ancora Quasi Ok Oh mio Dio Ok Adesso io ce la faccio Sto imparando eh Sto imparando Salta Non ci sono ancora arrivato E quella è una cosa strana Allora scommettiamo che tu facevi fatica a far quello Ma io appena tocco qualcosa blu Vado dritto dentro Ah ti dico io dove devi toccarlo Devi toccarlo proprio all'inizio del coso blu All'inizio Bravo No 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 Settantaquattresimo tentativo di questo livello Calpis Ce la farò Ce la farò Non ce la farò Si accettano scommesse No Settantaquattresimo Forse settantacinquesimo Invece È tutto perfetto E proseguo io ragazzi Neanche aspetto il mio Saresti morto due volte Però ti avevo tolte tutte le trappole Ma in karma ragazzi Ci aspetto sempre Tra amici Ricordatevelo Allora no Ferro Sono fortissimo Ce la faccio adesso No Perché mi spavano sempre dietro Allora Scusate ragazzi Attimo di rabbia Può succedere Può succedere No Calpi 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 Adesso sclero Adesso ce la devo far per forza Perché sennò sclero di più di quello che sto sclerando adesso E ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Benissimo Ma quanti ce ne sono di sti livelli che mi danno non fastidio di più Dove sei tu Calpi Sei livello 250 Ah no sei qua Perfetto Perfetto 782 782 Intanto che livello Regà Siamo quasi a metà dettra Io parto Io parto Parco giochi Porca vacca Parco giochi Aiuto Ma lì bisogna feicarla quella trappola Ok ho capito Adesso è tutto più chiaro Ok Calpi sono qua Salta Ok Ficco io per te Al massimo te passi Me la feicchito Ok passa passa Calpi Non morirci Ok Però adesso me la devi feiccare Te va bene Adesso se lo capo No 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 Me la devi feiccare te Calpi Dammi una mano Oh io ho fatto Sono stato bravo con te Adesso lo verrai Pure te Con me Feicala Gravissimo E boom Ragazzi Ecco perché bisogna farla in due Queste Ok Oh No Non andare troppo veloce qua Che ci scontriamo E sai che non c'è La roba che ti blo- Ka Ok perfetto No perfetto mica tanto Congratulazioni Non so L'inglese mi spiace Iden Hall Under you Dietro di noi Allora si bisogna per forza morire Qua e dietro di noi ci sarà il coso Ci sarà un buco Ma che cavolo Fermi Io non ho mai visto Fermo No no Quanto mi fai qua dietro Perro L'hai trovato Io non ho trovato nulla C'è scritto che qua c'era un buco Non c'è un corno di buco ragazzi Dove ti Cos'è stiamo parlando Penso di aver letto male io in inglese Però C'è scritto che Ah ma no Prima del parkour Vuol dire forse Ah eccolo Sì prima del parkour Infatti Allora guarda Quanto Vero L'hai visto Ok Come fai ad attivare quelle trappole Eh ci dobbiamo suicidare una volta a testa Penso No si potrebbe fare anche da solo Io sono capace Guardalo ferro ragazzi Deve andare in mezzo alle due Deve andare in mezzo là Lo vedi ping Terzo Deve andare in mezzo e ficarle Fai veramente schifo Te lo faccio io Da qua è 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 Esatto Almeno ci abbiamo fatto Allora Ma dai devo riparare È pieno di livelli Oh ma fermati livello Abbiamo già vinto Come abbiamo già Che sto dicendo Abbiamo già vinto Abbiamo livello 100 Abbiamo Oh ma fermi Mi sa che qua possiamo andare avanti Non C'è ho tirato la cosa Non mi non ho saltato Allora Sono arrivato Ti è a livello 50 Tu sei qua vici Spacca qua calpica No vabbè Fammi venire questo livello E fermi ragazzi Potremmo aver Concluso No però Anche te berro per favore Fai in serio Fai in una volta al serio Salta dopo salta Tira prima l'impulso Allora fermi Ora ho capito Allora fermi Porca vacca Per un cavolo di pelo Ragazzi vi giuro Che se io avessi tolto Il mio pelo del braccio Avessi messo lì in orizzontale Ci avrei saltato sopra L'avrei preso Comunque allora fermi Riproviamoci Proviamoci C'è stato un fantasma Che mi ha bloccato Io vorrei Replay su quello strano Coso che mi ha bloccato Perché per me Era un fantasma Allora fermi ragazzi Ok finalmente Buono buono Uh Fa tutto da solo Perfetto Immaginati una detran Da sola Che figo Una detran tutta da sola Sarebbe strana Vabbè Tanto sta Non l'ho capito C'è Una detran tipo Con tutti quei cose gialli Che vai avanti Ah ok Tutta Tipo destra Stavo scherzando Allora comunque Oh Mamma mia M Che cavolo bisogna fare qua Ok Non sicuramente la strada Che abbiamo preso noi Quindi forse che fossero proprio Sicuro al genere Perciò comunque Siamo livello quasi 50 Ma noi hanno 53 In realtà Fatto sta Arriviamo a 75 Ragazzi Poi vabbè Ci fermiamo Perché ragazzi Ce la faremo Ce la faremo Fidati Guarda qua Ok Sì va bene Ragazzi Mostruosa cosa Che cavolo Ho visto Fermi Fermi No ragazzi Serve uno skip livello E' difficilissima da fare questa Non ci sono Eh sì Purtroppo non ci sono Ok Lì Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito No Ma Ho fatto saltare lui Guarda La faccio tutte in uno Vai Ti do 10 euro Do you trust me Do you trust me No 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 Ma perché siamo morti C'era il pirullino Come il pirullino Io guarda che stiamo andando bene C'era il pirullino Stavi per vincere 10 euro Io ero in ansia Per un attimo Ho detto No ragazzi ho perso Comunque Io ho la tecnica in realtà Ma io avevo già fatta la tecnica Cioè Io e non prendere il ghiaccio ragazzi Basta non prendere il ghiaccio E' easy Ma non è quella Forse bisogna andare qua dentro Come fai a non prendere il ghiaccio poi E' impossibile Ma io Ma che Regà Ma no Non devi Regà Ma che cavolo E' stranissima Sì vabbè Io che vado all'indietro Perché c'è sta retramatta strana C'hai fatto Dove sei passato Fermo Mi servi Calpis Cosa hai fatto Dove sei passato Dimmi qualcosa Allora praticamente Devi prima evitare All'inizio Devi evitare i cosi gialli Salti Prendi il boost Cioè Vai destra Poi Dopo che vai a destra Prendi il boost Quello blu E ti salta E dopo il boost Blu Vabbè c'è una porta E la prendi Capito No non ho capito Veramente nulla Intanto muoio ora No raga Ultimo tentativo Calpi Ultimo tentativo Tutto nelle mie mani L'ansia sale No Oh no 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 Penso di aver sbagliato Ok forse no Ce la faccio Ce la faccio Ok Cosa blu Cosa blu Perfetto Ultimo Dammi l'ultimo tentativo Se non ce la faccio questo Il video finisce Te lo dico Allora ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Ora Devo feicare il ghiaccio Che non ce l'ho ancora Non ce l'ho ancora fatta ragazzi Io da mezz'ora che dico Di feicare sto ghiaccio Del cavolo Non l'ho ancora feicato una volta Comunque Cosa blu Perfetto Tutto qua è perfetto Ma se io aspettassi Che mi finisce Il ghiaccio Non va bene Non penso Perché forse muori Prendiamo il ghiaccio Ragazzi Oh Mi si è Mamma mia ragazzi Mi si è tolto il ghiaccio Prima del pimparolino E mi si è bloccato Tipo Il cuore Per un attimo Comunque proseguiamo Arriviamo a livello 60 Dai giusto per concludere No in realtà Non lo so In realtà Cosa detta È davvero divertente Però Mi sta anche un po' stancando Perché ok Che flash Però Ci sono dei livelli Quante morti abbiamo Scusa Col cavolo che flash Sto a letra È tutto Tranne che flash È vero Più che altro ci sono dei livelli Guarda questi Ne abbiamo fatti sei Colpo E poi ci sono dei livelli Che durano un'ora Intanto Ma che cavolo Ehm What Ehm Bisogna star tipo Dietro si Ok Boh Siamo arrivati A livello 60 Get ready For some youtuber Youtubers No Youtubers Beh penso abbia sbagliato Fatto sta È per noi youtuber Per noi Ok son morto Basta ragazzi Basta youtuber Basta tutto Torniamo in lobby Ragazzi dunque Spero che la mappa di flash Vi sia piaciuta Io vi ricordo Like Iscrizione Penso siamo già arrivati I 100.000 Forse non ancora Non lo so Comunque Iscrivetevi Lasciate like Codice creatore Ferro da stiro Scriviamo pure in stampato Che è bello da vedere Ragazzi Avete scritto pure qua Inserito Che tra un po' Inizia pure la season Per supportarmi sempre al massimo E grazie a tutti Per aver visto Fino qua il video Seguitemici anche Sia me che calpi Su Kef29 Ragazzi Perché staranno Per uscire video Stanno per uscire A momenti Entro un mese 100% Usci da un video Quindi Passate tutti sotto In descrizione Kef29 E detto questo Grazie mille a tutti Noi ci vediamo In un altro video Basta farti il tocco Le mani Ciao